Luca Matteassi, direttore, per commentare questo successo. Partiamo dai tre punti, lo aveva detto Auteri ieri in conferenza, erano fondamentali, sofferti, ma arrivati. Sì, erano fondamentali. L'importante era vincere perché bisogna badare al sodo adesso, bisogna avvicinarsi alla vetta. Ci siamo riusciti facendo un'ottima prestazione, sofferta, perché abbiamo fatto un gol quasi alla fine, però le occasioni ce le abbiamo avute e siamo stati poco cattivi lì davanti, perché altrimenti potevamo farlo anche prima. Prima partita con il 4-3-3, che a detta di molti è il modulo ideale per l'organico a disposizione di Auteri, prima partita che è l'eccezione di quell'intervento che è stato costretto a fare di Gennaro, poi ci dirà come sta il portiere. L'olbia, l'avversario, non si è mai avvicinato, altre volte invece piovevano palle e golle a grappoli. No, abbiamo fatto veramente un'ottima partita, in fase difensiva veramente attenti e anche in fase offensiva abbiamo creato, come ho detto prima, però non siamo riusciti a segnare prima. Il modulo è la prima volta che lo facciamo, dall'inizio proprio chiaro, così senza tanti stravolgimenti durante la partita, però a parte il modulo, poi alla fine questa squadra può fare tanti moduli, perché i ragazzi hanno caratteristiche in tanti diverse e quindi possono fare più moduli, però alla fine conta l'atteggiamento, conta come va in campo e come interpreti la partita. Come sta di Gennaro? Di Gennaro ha avuto questo problema alla spalla, adesso è in ospedale a farsi vedere, a farsi controllare, speriamo non sia niente di grave, però insomma i fisioterapisti hanno detto che potrebbe essere qualcosa di importante, vediamo. In caso Pescara sul mercato? Non lo so, non lo so, prima vediamo, valutiamo quello che si è fatto Raffaele, speriamo che non sia nulla di grave, poi vediamo. Assolutamente, dobbiamo rimarcare l'ottima prestazione di Cristian Galano? Assolutamente, ma non solo Galano, tutti, tutti hanno fatto un'ottima prestazione, Cristian lo sappiamo tutti, le qualità che ha, ha fatto veramente bene, poi alla fine un pochino si è spento perché era da qualche partita che non giocava, però ha fatto bene, sì come tutti gli altri. La partita, diciamo così, il Pescara dal punto di vista delle occasioni create e di quelle concesse, il risultato l'ha meritato, però a un certo punto sembrava difficile da raggiungere. Perché avevamo speso tanto, avevamo speso tanto, le occasioni ce le abbiamo avute, non le abbiamo concretizzate, come ho detto prima, e sai, quando arrivi non le fai, dopo un attimo ti spaventi, nel senso che dici, cavolo oggi non vuole entrare, però questi ragazzi fino alla fine hanno provato a portare a casa questa vittoria, ci sono riusciti e gli faccio i miei complimenti perché anche oggi hanno dato veramente tutto. L'ultima da parte mia, prima dello studio, a Cesena in posticipo, questa volta lo dobbiamo dire, è una partita fondamentale da non perdere. Adesso pensiamo alla Coppa Italia, ci sono, adesso non so se il mister farà un po' di turnover, pensiamo alla Coppa Italia che è importata anche quella, e poi penseremo al Cesena e andare a fare un'ottima partita là. All'auricolare il direttore Matteassi, quindi Massimo vi ascolta da studio per le domande. Sì, io vorrei far fare la domanda, però va a Gianluca Colonnello. Gianluca. Buonasera direttore, complimenti per la vittoria. Buonasera. Buonasera. Volevo anche sottolineare la prova di Galano perché nelle ultime sette partite aveva giocato solo tre minuti, quindi il Pescara potrà contare su un attaccante veramente importante. Da ora... Certo. No, questo volevo chiedere, se è tornato il Galano che conoscevamo, se è pronto per fare la differenza. Ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo tutti perché avere il Rosano giocatore come il Galano, in Serie C soprattutto, è molto importante, quindi... Però, insomma, c'è sempre stato, dipende da lui alla fine, c'è Cristian, lo sappiamo tutti, che ha grandissime qualità. Se Cristian ha la testa giusta per fare la differenza, la può fare veramente in Serie C. Poi volevo chiedere... Studio. Io... Volevo chiedere un'altra domanda. Ho visto... Pescara oggi ha vinto la partita per 1-0, non ha subito gol, però, secondo il mio punto di vista, ogni volta ho visto al 94esimo Rauti, si trovavano 3 contro 3 in area di rigore. Manca il coraggio di tentare il dribbling, di fare qualcosina in più, oltre il semplice. E ho visto durante la partita, ci sono state tante situazioni dell'uno contro uno in area di rigore, perché il Pescara, diciamo, secondo il mio punto di vista, ha giocato solo il Pescara, ha dato una sola opportunità all'Olbia per un errore di posizionamento, solo quella, perché avrebbe potuto segnare 2-3 gol in maniera tranquilla. A parte i 2-3 gol che potevamo fare anche prima, nel primo tempo, un'occasione con De Marchi, con Galano, qualche mischia in area, ma poi hai perfettamente ragione, proprio al mille per mille, sono d'accordo con te, perché abbiamo sfruttato male diversi contropiedi, come hai detto te, con Rauti, con De Marchi, un altro, la scelta dell'ultimo passaggio è stata sbagliata, oppure quell'uno contro uno, che magari un giocatore come Rauti ti aspetti che se la sposta su Emerson e ti va via nel breve, perché è molto più potente, più veloce, hai perfettamente ragione, però oggi abbiamo conquistato i tre punti, le volevamo fortemente, ci siamo riusciti, speriamo di migliorare anche queste cose, però sono pienamente d'accordo. Se avete un'ultima domanda da studio, poi liberiamo il direttore. No, va benissimo così Enrico, va bene. Grazie mille, una cosa sulla direttore, volevo chiedere, quanto manca di allenamento a Dursi per essere a disposizione? A Dursi è rientrato, ha fatto due o tre allenamenti da solo, si è allenato anche oggi e domani si riallenerà, vediamo insomma cosa deciderà il Miss, se gli vorrà fare un pezzettino di partita in Coppa Italia, non lo so. Perché questo 4-3-3 con Galano da un lato e Dursi dall'altro comincia a diventare poi tanta roba, come si dice in giallo. Sì, Dursi lo sappiamo tutti, per noi è un giocatore importante che ancora non ha fatto quello che può fare, perché Dursi può fare veramente molto di più, adesso cercheremo di recuperare anche lui in fretta, perché sono sicuro che ci darà una grande mano.